Buonasera, siamo ormai alle battute finali di questa campagna elettorale lunga, faticosa, da sette candidati sindaci dopo la prima tornata di votazioni, ne siete rimasti in due. Quindi Bene Comune e poi la compagine politica di Lallo. Proprio ieri le dichiarazioni di Marino che chiede un'alleanza, si mette a disposizione per il centro-sinistra e le vostre dichiarazioni di risposta dove comunque comunicate alla città di Sansevero di voler continuare in maniera coerente la vostra campagna elettorale da soli. Lei mi conferma per quale motivo questa scelta? Allora innanzitutto noi rispettiamo tutti gli altri competitori, quindi massimo rispetto per tutti quanti si sono cimentati in questa tornata elettorale. Abbiamo deciso di proseguire con la compagine di liste che ci ha accompagnato al primo turno, non per una questione di arroganza, di autosufficienza o di voler fare un dispetto a qualcuno, ma unicamente per lealtà nei confronti dei nostri elettori. Noi siamo nati con un'impostazione chiara, civica, ma con una forte caratterizzazione politica. Oggi ci rivolgiamo a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, anche quelli che non hanno votato per noi al primo turno, che possono riconoscersi in questa nostra proposta politica e sostenerci l'8 di giugno. Quindi io ritengo che l'alternativa che i cittadini hanno di fronte è quella di confermare la vecchia compagine amministrativa che ha accompagnato Savino nell'ultimo quinquennio, oppure aprire una pagina autenticamente nuova. Nuova non soltanto nei volti, perché i nostri consiglieri comunali sono tutti esordienti, età media 37 anni, ma nuova anche nei metodi. Noi vogliamo, da questo punto di vista, anche voltare pagine rispetto a determinati riti di accordi, apparentamenti, riunioni di caminetto che hanno caratterizzato la politica negli anni passati e di cui la gente è stufa. Anche in questo vogliamo introdurre un elemento di novità, di cambiamento, aprire una vera nuova primavera sanseverese. Questo è l'ultimo comizio pubblico di ringraziamento per i voti ricevuti, ma anche un ultimo messaggio agli incerti o a chi comunque si troverà a dover scegliere tra sinistra e destra sansevera. Sì, io mi rivolgo a quelli che sono andati a votare e non hanno votato per noi, mi rivolgo a quelli che hanno votato per noi in prima battuta, di ritornare e quindi di non rendere vano lo sforzo che tutti insieme, con tutti i candidati e le candidate delle nostre liste e i nostri supporter abbiamo fatto il 25 maggio. Mi rivolgo anche a coloro i quali non sono andati a votare perché sono sfiduciati, perché disillusi, perché non credono più nella politica. Oggi la possibilità di segnare un passo nuovo, un passo diverso c'è ed è la coalizione Sansevero Bene Comune con Francesco Miglio Sindaco. Chiedo a questi cittadini l'8 giugno di non disertare le urne, di andare a votare, di votare per noi e dare a questa città un ceto politico nuovo, mandando a casa coloro i quali da 20 anni hanno ridotto la città nello stato di degrado in cui si trova. I responsabili sono ben individuati e ben individuabili e stanno dietro la candidatura di Leonardo Lallo.